Ciao ragazzi, vedete che i miei occhiali sono molto più belli dei vostri innanzitutto, seconda cosa, alle mie spalle, proprio qua, vedete la costruzione sulla quale salirò oggi pomeriggio e da cui vi manderò il video più bello che voi abbiate mai visto, il panorama dell'intero paesaggio, la serra, le alpi, ok? Da quella posizione si vede addirittura l'appennino tosco-emiliano, quindi mio caro l'impacted building me fa una p***a. Secondo, invece che il vostro bus del c***o, che cos'ho io? Un mezzo di nuova generazione. La bicicletta elettrica, eccola qua, il bolide, eh? Questo sì che è un mezzo di trasporto nel futuro, ecologico, non consuma benzina ma va all'elettricità e pedalando puoi ricaricare la batteria, quindi mio caro, mia cara, non c'è storia. Baci!